Lunedì 11 settembre, terzo e penultimo giorno della Fiera di San Nicola, una fiera ormai diventata da tempo, tradizione del settembre pesarese, 550 gli ambulanti circa ad esporre con le loro bancarelle lungo i 4 km della Fiera di San Nicola. Noi siamo andati a domandare agli ambulanti un piccolo bilancio su questi primi due giorni di fiera. Noi siamo molto contenti perché tutti gli anni grossomodo il risultato è uguale, anzi l'incremento, quindi siamo contenti. L'affluenza di pressione, stanno molto attenti alla qualità anche perché abbiamo anche tutto il materiale di qualità, la poichetta dei chianti, salsiccia di città senese, amburri di canina, tutta roba è magari l'ha prodotto, l'ha prodotto ha avuto un successo incredibile perché giustamente essendo fiorentini facendo l'ha prodotto di qualità e portandolo a pesa, pesa lo apprezza insomma, è un sacco di gente che sta chiedendo questa merce insomma. Siamo al terzo giorno di fiera, come sono andati i primi due? Ma essendo sabato e domenica ci aspettavamo qualcosa in più, però accontentiamoci intanto le giornate sono belle. La gente non lo so 10 euro fa fatica, magari vuoi dare uno in più, dice no basta così, insomma hanno comprato diciamo qualcosa in meno rispetto a quello che erano gli altri anni che compravano di più, di tutto, diciamo più misurati. Avete un legame stretto con la fiera di San Nicola oppure siete alle prime esperienze? No, noi veniamo da tanti anni, veniamo dalla Puglia, vendiamo intimo da tanti anni e siccome la maggior parte è merce che si produce da noi, la gente torna perché il prodotto che gli diamo è un buon prodotto. Non ci possiamo lamentare, la gente c'è stata tanta ora che compra o meno il nostro articolo, però la gente c'è. L'anno scorso è stato un po' meglio, forse perché si mancava da prima dal Covid, l'anno scorso la gente era più invogliata a comprare. Noi si vendono solo borse in pelle fatte a Firenze, tutto prodotto artigianale, roba di qualità. Abbiamo un prodotto molto bello e molto da fiera secondo me, perché non c'è bisogno di provarlo, di indossarlo, se la guardano così un po' allo specchio e via. Rispetto agli altri anni c'è stata più affluenza di gente e la gente ha speso, almeno per quello che riguarda il nostro articolo ovviamente. Sono croccanti, avete caramelle di tutti i tipi, zuccherate e non zuccherate, quindi sono sempre andate di moda e la gente si ferma sempre. Biscotti siciliani, abbiamo Lamporecchio che sono i brigidini, comunque è un articolo questo che non passa di moda insomma, al di là dei dentisti, di quello si può dire. Quindi siete sempre soddisfatti, avete un legame particolare con la Fiera di San Nicola? Allora, la Fiera di San Nicola i gestori del banco la fanno ormai da 30 anni, quindi direi di sì, insomma sono le ravici. E poi vedete soprattutto davanti a voi, al di là del bancone, famiglie, quindi grandi, piccini, tutti i tipi, sono sempre incuriositi e ingolositi da quello che vendete. Sì, 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 non c'è età. Abbiamo vari tipi di prodotti, parliamo dalle spezie, vari tipi di frutta disidratata con zuccheressenza, tipi di infusioni che possono essere tè verde, tè rosso, infusi stessi, miscela del benessere e così via. La clientela è incuriosita e vi domanda anche magari dove possono essere utilizzati e in che modo questi prodotti? Certo, chiedono anche dei consigli, si affidano a noi, noi con piacere siamo propensi a dargli i giusti consigli in base alle esigenze del cliente. Questa fiera risponde sempre bene, è normale che a volte ci possano stare più o meno affluenza, però in grandi linee i risultati si vedono alla fine dei quattro giorni ma siamo soddisfatti. Non mancano le problematiche, sono stati infatti diversi, i grattacapi sollevati appunto dagli ambulanti per quanto riguarda soprattutto il costo delle postazioni che stanno incrementando di anno in anno. Se gli ambulanti spendono, calcola che è 750 euro il mio posto, calcola il viaggio, il mangiare, che cosa fai? Vieni qua, vai dal ristorante, tanto comunque ha un costo, no? Quindi cosa succede? Succede che alla fine della storia, poi se c'è un po' il maltempo, qualcosa, tu non hai guadagnato niente, hai fatto 20 ore al giorno, torni a casa, non hai più questi risparmi che erano per l'inverno. Perché noi ambulanti quando piove il comune non è che dice, ah Carlo ha piovuto, ti mandiamo 100 euro perché ha piovuto, qua ci dobbiamo sostenere. Negli anni abbiamo avuto tanti aumenti che abbiamo avuto e vi dico onestamente che non lo sopportiamo più, perché prima un posteggio costava 200-300 euro, adesso siamo arrivati a oltre 600 euro e io ho due posteggi, già sono 1.300, poi albergo, ristorante, prima con 30 euro mangiavi primo, secondo, terzo, frutta, gelato, adesso ti danno un primo e forse un po' di vino, forse un po' di vino e poi basta. Quindi non dico che ci dobbiamo mettere anche a dietro per fare le fiere, ma quasi, poi venire le spese che abbiamo andato a ritornare, anche se è un'azienda familiare, non è facile recuperare tutte queste spese. Può anche mettere a rischio la categoria? Alcuni nostri colleghi sì, perché poi giustamente non tutti lavorano con lo stesso margine, hanno difficoltà e tutto quanto, anche noi comunque subiamo delle difficoltà, ma andiamo avanti e speriamo che la categoria si salvi, perché è una categoria importante ma sottovalutata.